Una morte in diretta a Instagram è stato così immortalato il tragico incidente stradale che ieri notte tra Campania e Lazio, Alto Casertano e Frusinate, ha portato alla morte di tre giovani e di un 52enne. Le fasi prime durante l'impatto sono stati immortalati in una diretta social che Luigi Francese, una delle tre giovani vittime, stava effettuando attraverso la sua pagina Instagram. Fra le lamiere sbalzati sull'asfalto Carlo Romanelli, 19 anni, Matteo Simone, 19, Luigi Francese, 20 anni e Claudio Amato, 52 anni. Due dei tre ragazzi sono morti sul colpo, un terzo in ospedale. Morto anche il conducente della Fiat Idea contro la quale si sono scontrati Claudio Amato, di 52 anni, che era uscito di casa per andare a comprare le pizze. Ora le forze dell'ordine hanno acquisito tutti i dati necessari per ricostruire la dinamica del fatale schianto. Grazie per la visione!